E luce sia. I lampioni davanti all'altro village sono stati riaccesi. Ieri due tecnici del locale notturno, amministrato dalla società Marameo SRL, hanno messo in funzione l'impianto di illuminazione di cui tanto si è discusso nelle ultime settimane. A partire da stasera, la zona della discoteca e ristorante sulla strada statale 45, all'altezza di La Verza, non sarà più avvolta dal buio fitto tanto pericoloso per la sicurezza dei numerosi clienti e lavoratori. I gestori privati, come esortato dalle istituzioni, hanno provveduto finalmente a riattivare i fari di loro competenza, spenti da almeno tre anni e necessari a garantire la tutela dell'incolumità pubblica. Gli elettricisti hanno ricollegato i fili al contattore e verificato lo stato dei pali della luce, anche con l'ausilio di una scala elevatrice. Al termine dell'intervento, gli addetti, incaricati dall'altro village, hanno testato gli agoniati lampioni per qualche minuto in orario diurno, in vista di questo weekend in cui occorrerà accenderli a pieno regime per assicurare una visibilità ottimale alle persone a piedi e agli automobilisti. Il pugno di ferro del comune di Piacenza è stato determinante. La sindaca Patrizia Barbieri, infatti, ha inviato una diffida formale ai gestori dell'altro village per invitarli ad attivare l'impianto di illuminazione nel minor tempo possibile, come peraltro prescritto più volte in passato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Anche perché, va ricordato, di fronte all'altro village, proprio in quel tratto di strada statale 45 dominato dal buio, nella notte fra il 29 e il 30 giugno due giovani albenesi sono stati travolti e uccisi da una trentenne ubriaca.